buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi siamo in un'edizione speciale per la compilazione la domanda per la scelta delle preferenze per chi è inserito in gae o in gps per l'anno scolastico 2022 2023 passiamo subito alla prima domanda se nella scelta delle preferenze non inserisco una scuola ma per punteggio avrei avuto diritto alla supprenza proprio nella scuola non scelta verrei considerato rinunciatario se si rinuncia ad una preferenza o a più preferenze sintetiche o puntuali e il sistema assegnerà la supprenza sui posti non inseriti in domanda chi ha un punteggio inferiore al vostro in gradatoria verrete esclusi da tutte le gps per l'intero anno scolastico 2022 2023 domanda numero due se non scelgo un comune x per una data classe di concorso verrò considerata per una eventuale seconda convocazione negli altri comuni di mia scelta per la medesima classe di concorso non è detto che potrà fruire di una seconda convocazione infatti non avere inserito il comune x per una data classe di concorso potrebbe consentire l'assegnazione del posto in quel comune x c'è in una scuola di quel comune x e per quella classe di concorso a qualcuno più indietro in gradatoria una tale eventualità escluderebbe chi ha rinunciato alle supprenze nel comune x da qualsiasi altra convocazione delle gps per qualsiasi classe di concorso domanda numero 3 in caso di un presunto errore sull'assegnazione delle sedi a chi posso rivolgermi per un controllo per un ricorso il reclamo va fatto all'ufficio scolastico provinciale di riferimento che probabilmente provvederà al controllo e a sanare la situazione in caso di errore come funziona la tipologia contratto pezzone con completamento territoriale questa è una novità il completamento territoriale nelle edizioni scorse non c'era è stato inserito quest'anno nella scelta della tipologia di contratto bisogna scegliere pezzone e dare allo pezzone una quantità oraria oscillante da un minimo di sette ore a un massimo di 17 ore in caso parliamo di insegnamento per la scuola secondaria grazie a tutti 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 grazie a tutti